Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. Il combattente che state vedendo in questo video è il famoso tecnico Lam Namolek Or Achyaira, un Nak Muay che ha ricevuto il premio di miglior combattente dell'anno 2021 dalle autorità sportive thailandesi. Lam Namolek nasce il 13 aprile 1998 nella regione del Burinam ed inizia ad allenarsi e combattere all'età di 7 anni per il campo Sak Chai Shot. L'anno successivo poi si sposterà presso il più famoso campo Teder 99. Lam Namolek è un combattente molto tecnico e tattico, porta poche colpe ma potenti e riesce sempre a gestire molto bene anche i più forti avversari. E' molto bravo sia al cento ring che alle corde. Alle corde si destregge molto bene, riesce sempre poi a mandare a vuoto i colpi dell'avversario per rimettere il suo famoso middle kick, una delle sue armi più potenti e che gli fa guadagnare anche molti punti durante il match. Nella sua carriera, che è sempre attiva, ha combattuto circa 130 match con circa 110 vittorie. Nel 2019 vince il titolo di campione del mondo S1 battendo Cior Fattor Sant'Enoi, un titolo che vince nelle 130 libri. L'anno successivo, nel 2022, conquista il titolo di campione del mondo WMC, sempre nelle 130 libri. E poi, sempre lo stesso anno, nel 2022, entra nel nuovo circuito Rajadaman World Series, diventandone campione, nelle 135 libri. Tutto oggi l'Anna Mollek combatte in questo nuovo circuito di Rajadaman World Series e sono sicuro che anche in questa edizione lo vedremo in finale competere per la cintura di campione del mondo. È un circuito dove ci sono forti combattenti thailandesi e anche forti combattenti stranieri. Vi consiglio di seguirle, vi consiglio di seguire l'Anna Mollek nei suoi match, perché è un combattente veramente tecnico e tattico, dal quale c'è molto da imparare. Se il video vi è piaciuto e ne volete sapere di più sulla humanità, iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti!